In questo video solleverò una questione leggermente diversa rispetto a quelle che normalmente tratto nei miei video, nei miei canali social. Però, visto che sono episodi che sento sempre di più sia da amici, colleghi, ma anche sulla mia pelle li ho vissuti, secondo me è necessario fare qualche chiarimento, quantomeno mettere in luce il problema per vedere se poi riusciamo a muovere qualcosa e a sollevare le coscienze. Allora, mi riferisco al fenomeno degli annunci, che poi annunci su siti, ad esempio, affitto, casa, vendita, compravendita di case, che poi non portano a nulla, ma non perché ci sia una truffa, ma perché c'è un gioco di marketing non proprio pulitissimo. Adesso vi spiego che cosa intendo. Non vi è mai capitato di cercare, non so, state cercando una casa in affitto su uno dei vari siti, tipo, non so, non li dico perché non vorrei che poi saltasse fuori qualcuno di questi se la piglia male, però i vari siti che si utilizzano per filtrare un po' di annunci messi poi online dalle varie agenzie immobiliari e trovate la casa dei vostri sogni, trovate l'appartamento che proprio volevate. Caspita, bellissimo, telefono subito, telefonate e la risposta normalmente è, ah guardi, ci dispiace, l'abbiamo appena proprio affittato ieri, oppure l'abbiamo proprio appena venduto ieri. E poi nella maggior parte dei casi non finisce lì la telefonata, la telefonata diventa un'offerta a incontrarsi e a vedere altre soluzioni simili. Allora, non è che ci vogliano grandi studi di marketing e grande esperienza nel settore della compraventita di casa o dell'affitto di case, però è chiaro che sono degli annunci, chiamiamoli civetta, degli annunci messi lì per attirare l'attenzione come specchietti per le lodole, ma che in realtà non hanno sotto davvero un'offerta di una casa, un'offerta di un affitto, ma servono appunto solo per attirare l'attenzione perché spiccano, perché hanno delle caratteristiche particolarmente attraenti e che poi vengono dati come appunto appena venduto, appena superato, appena non l'abbiamo aggiornato, era dell'altro giorno, era della scorsa settimana, ovviamente l'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di agganciare il cliente e fargli venire comunque la curiosità e dire ma guardi, se poi passa da noi in ufficio, se ci lascia il suo recapito, email, le mandiamo la nostra brochure, cioè sono tutti modi per poi acquisire alcune informazioni vostre, alcuni dati che a loro servono, alle agenzie e vari soggetti che fanno queste attività servono per poter poi fare il marketing e poi contattarvi, quindi fate attenzione a questo tipo di strategia e in realtà io di questa strategia avevo già parlato in un mio vecchissimo post sul blog, ma ti sale davvero a un po' di anni fa, dopo magari lo linko qua nei commenti, in cui parlavo più o meno dello stesso fenomeno relativo ad un settore ancora forse più delicato, quello degli annunci di lavoro, ovvero annunci di lavoro che in realtà non hanno davvero sotto una posizione aperta, cioè sono degli annunci di lavoro virtuali, vi assicuro di questo ho avuto conferma da amici e conoscenti che lavorano nel settore dell'intermediazione delle risorse umane, quindi classiche agenzie di lavoro, agenzia per la ricerca del lavoro, le quali purtroppo usano questo metodo, questa strategia per poter avere la banca dati sempre aggiornata, cioè ovvero pubblicano degli annunci di lavoro che però non sono davvero una esigenza reale e attuale di una persona che lavora in che la posizione, ma sono delle posizioni ipotetiche che l'agenzia sa di dover piazzare nel giro di qualche mese a venire, ma serve appunto all'agenzia, all'intermediario per poter avere la banca dati sempre più aggiornata rispetto ai suoi concorrenti, e quindi cosa succede? Che però si crea innanzitutto un'illusione negli occhi di queste persone che stanno cercando lavoro e quindi credono che lì ci sia davvero una posizione aperta e che sia qualcuno che sta davvero cercando uno come loro e non semplicemente un'ipotesi futura, non una posizione virtuale, ma dall'altro lato si droga il mercato, nel senso che sembra che ci siano, cioè se tutti questi soggetti, queste agenzie facessero così, e purtroppo molte lo fanno, quasi tutte, perché se no non riuscirebbero ad essere competitive l'una con l'altra, se tutte fanno così succede che poi sembra, si ha la percezione che ci sia molto più lavoro di quello, molta più richiesta di lavoro di quella che in effetti corrisponde alla realtà, e secondo me questo è particolarmente pericoloso e sbagliato, ripeto, soprattutto su un aspetto anche psicologico perché si agisce sulla, scusate, anche la disperazione di alcune persone, persone che magari non trovano lavoro da molti mesi o addirittura da anni, che vedono in quell'annuncio una speranza di vita, se poi scoprono che in realtà lì sotto non c'era davvero una richiesta di lavoro, una richiesta di un dipendente o di personale che facesse quella mansione, ma era solamente un modo per l'agenzia, per poter agganciare un nuovo utente, allora quello non è pulitissimo, anche perché appunto entra in gioco la questione privacy, cioè in questo modo cosa succede è che avendo sempre questi annunci che sembrano freschi, sembrano nuovi perché c'è sempre qualche azienda che cerca quella posizione, il lavoratore un po' disperato e che è tutto il giorno lì a guardare annunci, continua a caricare il suo curriculum, continua ad aggiornare la banca dati e quindi continua ad accettare la cosiddetta informativa sulla privacy e quindi a fornire sui dati personali a questi soggetti, i quali con questi dati personali fanno marketing, cioè vanno dai loro clienti, vanno dalle aziende che poi li incarichano per trovare il personale quando ce ne sarà bisogno e loro possono avere una banca dati super aggiornata, dirà noi siamo quelli più sul pezzo perché nella nostra banca dati abbiamo n milioni di utenti che tutti i giorni aggiornano i loro dati e ci affidano e ci danno liberatoria per utilizzare il loro curriculum, questo non è molto corretto, siamo onesti, non so se già trasmissioni come, non so, classici, strisciano notizia, report, abbiamo sottolineato questo aspetto. L'aspetto è quello degli annunci di lavoro, sì sicuramente perché mi ricordo che c'era un servizio delle Iene che io avevo appunto commentato e da cui avevo preso spunto per fare il mio articolo, adesso lo stesso fenomeno si sta riproducendo sugli annunci delle case, ma anche lì ma smettiamola, cioè come se appunto, ripeto, ci vogliono dei grandi master in marketing e comunicazione per capire che un annuncio è stato messo lì e poi se magicamente è stato venduto il giorno stesso o il giorno prima di quando io ho fatto la telefonata c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa di strano, ok? Quindi questo per dire che state un po' all'occhio e non abboccate così, come dire, supinamente a queste strategie. Ripeto, le agenzie serie non lo fanno, ok? Le agenzie serie non lo fanno, però se comincia a vedersi un po' spesso, un po' troppo spesso questa prassi, vuol dire che purtroppo la tendenza è quella ad andare in quella direzione. E se poi tutti vanno in quella direzione, anche quelle serie, temo, vengano poi portate a seguire l'onda per essere competitive con le altre. Ok? Niente, volevo darvi questo spunto di riflessione, se magari nei commenti mi aggiungete, mi raccontate qualche vostra storia, perché magari sicuramente qualcuno ascoltando questo mio video messaggio, questo mio video, dice, ma caspita, ma anche a me allora è successa una cosa simile, non ci avevo pensato. Ecco, raccontatemi le vostre storie che mi interessano. Grazie a tutti, ciao e buon weekend.